Ok ragazzi, ci siamo, siamo pronti Vediamo di fare le cose fatte bene, con calma Uscire alla luce del sole è importantissimo Per riuscire a vedere materialmente I nemici Ok che anche loro vedono noi, però fondamentalmente Se noi non riusciamo a vedere loro è davvero un gran problema Ok Il cane ha trovato un nemico Non riesco a capire chi sia Bredone Stai attento Non ho assolutamente intendente Attenzione di lui Combinar casini Benissimo Benissimo Ok Stiamo arrivando Io certe volte premo il tasto del VATS Semplicemente per vedere se ci sono nemici Dato che è un po' come se attivassi l'istinto E infatti Non riesco a capire dove sia Vi giuro Vi giuro non lo riesco a A distinguere Facciamo molta attenzione ragazzi Eccolo Eccolo Un altro Questo qua è bello tosto Questo qua è bello tosto Mamma mia ragazzi Vi assicuro che con la modalità survival Ho una paura incredibile Ho una paura incredibile Sarò 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 esagerato io Ma ho proprio paura Quando vengono addosso Sparo all'impazzata Perché Ho proprio paura di morire Chiaramente È paura di morire nel gioco È chiaro però Mi fa paura Giochiamo ad astuzia E non c'è riuscito Lo rifaremo Vediamo se riesco a farlo così Biblioteca di Boston Ed esplorare vi dico la verità Mi piace tantissimo in questa modalità Perché ha davvero senso esplorare Dato che Si esplora per davvero Proprio perché si sta attenti ad ogni anfratto Mentre invece nella modalità Facile di Fallout Si corre tutto sommato Almeno io e per me è così Quindi Questo non significa che per voi Deba essere anche così Magari voi Riuscite ad esplorare anche in modalità facile Io vi dico la verità In modalità facile In poi in linea di massima Tendo a correre O ad andare dritto verso l'obiettivo Invece Così mi piace molto Eh ragazzi L'orologio mio di gioco Dice addirittura 5 ore O 4 Ora non mi ricordo Comunque 4 ore Cioè per dirvi quanto Quanto ho giocato finora E quanto ho tagliato Soprattutto Ci sono diverse parti Di crafting Diciamo che non vi ho mostrato Giustamente Per non appesantire troppo Ma ci sono dei cani Il cane salvatico Però E lì in fondo Non riesco a capire Se quelli sono Sono manichini Diamo un'occhiata Alla mappa Ok Dovremmo andare sempre I diritti Va bene Proviamo Ragazzi Non per dire Però onestamente Adoro Questa mod grafica Distorce completamente Il lavoro fatto da Bethesda Questo è vero Però Ah Caspita Mi puzza di trappola Ragazzi Se avete visto Io sono leggenda Mi puzza di trappola Questa in una maniera incredibile Mizzica ragazzi La tensione Mi uccide Praticamente Ok Ci siamo Porca miseria Mamma mia Preso Ok Infatti Stavo guardando Quella struttura Dicendo possibile Che lì dentro Non c'è Porca miseria Histo Fissare Seglla Questa 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 Dovrei andare in copertura? Dovrei andare in copertura?